Asse attrezzato Ragusa Catania, si va verso la firma. Alle parole trionfalistiche del Vice Ministro Giancarlo Cancellere, seguito il gelo della Regione Siciliana, quindi è ancora presto per esultare. Ma il giorno della firma definitiva al Cipe per la Ragusa Catania dovrebbe essere il 19 dicembre. Un'altra settimana di attesa, quindi per avere certezze su un'opera, dall'importanza strategica per tutto il territorio ebleo. Le parole del Sindaco di Sartina e Presidente della GAL Nati Blei Vincenzo Parlato come volano di sviluppo associato agli investimenti che sta facendo proprio il Nat. Il gruppo di azione locale Nati Blei è una società cooperativa senza finalità di lucro costituita nel 2009 per promuovere lo sviluppo del territorio rurale di riferimento, ovvero dell'area interna eblea delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, Comune di Licodia, Eubea, Militello, Valdicatania, Scordia, Vizzini, Chiara Monteculfi, Giarratana, Monte Rossoalmo, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassero, Ferla, Francofonte, Palazzola Crede e Sortino. Sono soci del GAL tutti gli enti locali del territorio rappresentato, oltre a tutti i principali attori coinvolti nello sviluppo territoriale. Associazione di categoria, associazione di produttori, enti no profit. Sarebbe una svolta per il territorio degli Blei, aggiunge, con questa infrastruttura riusciremmo a portare avanti tutti gli interventi previsti per sostenere le imprese, come abbiamo ricordato ieri 10 dicembre durante il seminario informativo di presentazione della strategia di sviluppo locale.